Grazie a tutti. Forse il più grande dell'Unione di Romagna, cioè non di più, interessante come si è sviluppato dopo un'occupazione che poi negli anni, dopo diverse lotte civiche, è stata riconosciuta dall'amministrazione pubblica, la quale ha portato avanti una battaglia per salvaguardare quel luogo e quindi ha nella sua produzione artistica e culturale creato intorno a sé, è con l'interesse di tutta la comunità di Sant'Arcangelo che l'ha voluto proteggere. Quindi questo è quello che ci interessa sapere da amministrazione pubblica. Intanto lei ci introduce un po' e io preparo il tuo video. Sì, sì, grazie. Mi posso appoggiare qui? Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito agli organizzatori e anche al Comune di Cesena, al partecipante che sono oggi qui ad ascoltare. Io vi parlo di Mintonia, ma come amministratrice ho subito negli ultimi sette anni anche tutti quanti i lavori del Comune di Sant'Arcangelo in termini di partecipazione. Quindi tutti quelli che sono i progetti che la Regione Mila Romagna ha finanziato nel nostro Comune per attivare la partecipazione. Alcuni sono andati a buon fine e hanno generato dei processi che sono ancora in essere, altri sono stati lavori molto interessanti, però diciamo che hanno costituito dei momenti, della durata del percorso partecipativo e poi non sono riusciti a innescare un processo che ha dato e continua a dare dei miei risultati nel tempo. Questo è perché la partecipazione ha sempre bisogno di ingredienti che dipendono dal territorio, dalle comunità, dal tempo in cui cerchiamo di andarli ad attivare. Quindi i risultati non si sono mai scontati ed è un po' che quando noi abbiamo un approccio scientifico parliamo anche di cose che sono ripetibili in laboratorio. La partecipazione non è come un esperimento che può essere ripetito in laboratorio perché non riusciamo mai a riprodurre sempre lo stesso contesto e non riusciamo mai ad avere gli stessi ingredienti. E' per i cittadini e quindi già farci complimenti a chi è qui oggi è costoso in termini di energie, volontà, voglia di mettersi in gioco e desiderio di cambiare in qualche modo il proprio territorio e di dare qualcosa alla propria comunità. E questo lo si fa per la pura soddisfazione di partecipare e del bene comune. Di solito non ci sono ritorni in altri termini dal punto di vista della partecipazione, è proprio un moto dell'animo verso la propria comunità. e quindi secondo me va sempre valorizzata e apprezzata. E anche gli amministratori che si mettono in gioco su questi temi si fanno un scritto matto, come si dice, perché è davvero scostante anche in termini di routine, di quanto si deve intervenire all'interno di questi prezetti. L'argomento in termini di partecipazione è riuscita a codificare al meglio quelle che sono le cose che possono accadere in un percorso partecipativo. Quante sono quelle situazioni che io ricondurrei al campo della spontaneità, che a volte funzionano meglio di quelle che cerchiamo di ricondurre all'interno dei binari della partecipazione. E Ntonia è un caso di partecipazione e di rigenerazione spontanea. Ah sono io. Sono appoggiata a tre camera. Mi sposto, non mi viene mai accorta. Cioè chi segue da Facebook è trovata la mia schiena. I Mutoyed sono arrivati a San Marcangelo 30 anni fa. La Mutoyed Waste Company è una compagnia di un collettivo di artisti e meccanici che sono sempre interessati di Rinso e la cui estetica e poetica è incentrata su questi temi. È un'estetica che si sviluppa durante il periodo tasseriano e sul finire della guerra preta. Quindi il post-apocalittico, il post-nucleare sono elementi ricorrenti del loro lavoro. La comunità era inizialmente costituita da travelers che sono viaggiatori. In Italia la comunità nuova sono sostanzialmente due, insomma quelle dei Rom, dei Sinti, dei Zostrai. In Inghilterra ce ne sono molti di più e sono riconosciute dal governo britannico. Ci sono i Traveler, sono anche detti New Age Traveler, che è un po' il movimento che si sviluppa negli anni Sessanta con libri che viaggiano anche in Oriente e quindi allestiscono i loro metti, il camion eccetera per poterci, per poterci vivere. In quegli anni si sviluppano anche i Festival, che sono un elemento tipico della cultura estiva britannica, che occupano da fine maggio a settembre settimanalmente tutto il territorio britannico e quindi generano un bel indotto in termini di lavoro. Poi c'è la comunità dei Barcaioli, che è un'altra comunità nomade, e poi ci sono i Romani, che sono i Minaschi e i Rom, insomma ci sono diverse categorie. Una di queste è i Traveler. Le politiche carceriane in quegli anni, nei controlli di queste categorie, si inaspiriscono e i mutoidi decidono di viaggiare in Europa. Vengono invitati al Festival di Sant'Arcangelo, il Festival dei Piatri Mondini nel 1990, e scelgono uno spazio per una loro performance e anche per parcheggiare il loro convoglio, perché arrivano con un convoglio. Lo spazio che scelgono è una cava, un via di dismissione lungo il fiume Marecchia. Il fiume Marecchia caratterizza tutto il territorio della Valle Marecchia e nel secolo XX è caratterizzato dall'estrazione di viaia dalla cava, dall'attività dei caratteri, che poi a metà degli anni 50 diventa un'attività metallizzata. Quindi ci sono tutti questi siti dove si vedono, in alcuni ci sono ancora un po' mostri di ferro, che sono le attrestature tecnologiche che erano utilizzate per la franimazione e l'estrazione della viaia. Quindi questo tipo di sito, già segna abbandonato, si sposa molto bene con l'estetica che ho definito post-apocalittica dei notoide. Inizialmente loro, quando arrivano, si devono fermare solo per le performance di quell'edizione del Festival, hanno un impatto molto positivo sul territorio e quindi ricevono inviti a partecipare a altri festivals, a realizzare scenografie per gli istotiche, spettacoli, performance. Quindi diciamo che si fermano, si fermano un anno, due anni e sostanzialmente da nomadi diventano seminomadi e poi spaziali, perché sono tutti i ragazzi giovani che fermandosi, poi si fregano delle famiglie, nascono i bambini, quando nascono i bambini, poi si devono mandare i bambini a scuola, ci si fermano lì. Corrego rispetto al termine occupazione, perché non è mai stata un'occupazione quella di Newtoy, è sempre stato, ci sembra stato un dialogo con l'amministrazione e anche il sistema da parte dell'amministrazione, quindi non c'è mai stato nessun atto che sia stato da parte dei Newtoy che sia stato in contrasto con la volontà dell'amministrazione nei momenti che sono stati dei momenti più difficili, legati a qualche sosteggiamento che ha preso un po', è diventato eccessivo, però poi da parte del Consiglio Comunale c'è sempre stato sostegno all'unanimità nei confronti dei Newtoy, questo perché si sono create delle relazioni da subito con il territorio, anche perché... C'è stato un momento in cui dovevano essere... Adesso c'è arrivo perché è il 2014 quello, quindi diciamo che nel tempo si creano delle relazioni e Sant'Arcangelo comunque è un paese piccolo dove ci si conosce tutti quanti, è cresciuto anche culturalmente con il festival dei teatri, abituato ad avere personaggi strani in giro per Sant'Arcangelo durante l'estate e comunque molto attento all'innovazione culturale, proprio uno degli elementi del DNA Sant'Arcangeloese, il luogo di poeti e di quindi parlando con un ex sindaco, mi diceva mai in Toyd, se non si fermavano a Sant'Arcangelo dove andavano, cioè qui potevano essere di casa. Quindi ecco, si creano delle relazioni positive, l'amministrazione concede con un comodato e l'uso gratuito quello spazio alla comunità motoid, lo concede venti anni fa, quindi i primi dieci anni sono normati, i primi dieci anni di permanenza sono normati da ordinante e regole di buon vivere. Alla fine di questi dieci anni, quando la causa è effettivamente dismessa, il comune di Sant'Arcangelo chiede in concessione al demanio quello spazio, che trattava esso uno spazio demaniale, lo ottiene e lo concede poi alla comunità dei Milton Grace Company con una condizione ventennale. Tutte le offre di gestione di quello spazio sono a carico dei Milton Grace Company con una associazione? Adesso sì, inizialmente diciamo che era un'associazione informale, era un gruppo di persone in sede, inizialmente a questa specie dell'associazione informale. Poi nel 2014 è stata costruita un'associazione, forse facciamo prima, l'associazione Newtonia che è il soggetto giuridico che dialoga con il comune. Io dicevo, quando arriviamo al 2014, tutta una serie di infrastrutture sono già state realizzate, perché nel frattempo il comune ha dato delle prescrizioni, la realizzazione della pegnatura, la vasta limo, l'allaccio alla rete idrica, l'allaccio alla corrente elettrica, quindi tutto questo è apparito e sostenuto dai motori, perché questo spazio è non solo un'officina di produzione artistica, ma è anche un villaggio, quindi c'è un continuo inoltre atelier e residente. Questo è un po' il segreto che ha trasformato da insediamento temporaneo a insediamento permanente, perché è comunque una storia di 31 anni, è una storia molto lunga, soprattutto in questo campo delle rigenerazioni urbane che spesso hanno una storia più breve. Il fatto che sia anche un villaggio secondo me è una delle componenti che hanno fatto funzionare questo esperimento, chiamiamolo così. È uno spazio aperto alla cittadinanza da subito, cioè da quando esiste c'è sempre stato uno scambio con il territorio e con i residenti, quindi diciamo che si è configurato da subito come spazio pubblico, che può essere attraversato, può essere visitato, può essere fotografato. Le abilità dei motori sono sempre state messe anche a servizio della cittadinanza e dell'amministrazione, quindi inviti a tenere laboratori nelle scuole, piuttosto che inviti a esporre le proprie sculture, piuttosto che inviti a partecipare al festival. Quindi tutto procede in maniera diciamo idilliaca, con tutte queste esternalità positive che ci sono per il comune di Sant'Arcangelo, per il territorio, cioè l'avere una galleria a cielo aperto, perché i motori producono sculture che tutti quanti possono vedere. Noi andiamo a vedere le statistiche di Google e la prima chiave di ricerca che porta a Sant'Arcangelo è un poide, quindi è diventato un veicolo di promozione turistica per Sant'Arcangelo, è diventato un motivo di attrazione per i turisti, è innescato un processo che ha rigenerato uno spazio che diversamente sarebbe stato uno spazio deserto, perché le cave piano piano si rigenerano dal punto di vista naturalistico quando vengono abbandonate, ma c'è anche un rischio nelle cave e il rischio che corrono tutti gli spazi a margine, cioè che quegli spazi vengano occupati per attività diciamo al margine della legalità. succede in altre cave, lì non succede perché c'è un presidio. E poi diciamo è un centro di promozione di ecologia e di ambientalismo, perché a Sant'Arcangelo alcuni principi legati al riuso e alla sostenibilità si è cominciato a parlare di queste cose 30 anni fa, quindi arrivando un pochino prima rispetto al resto della società. qui dicevo, spiegavo che questo insegnamento sorge su un affettamento di terreno del Demanio, dove ci sono dei vincoli paesaggistici e uno dei vicini del campo mitoide fa un ricorso e lo vince. perché sostanzialmente è mancata una procedura, perché in questo insediamento che si è generato spontaneamente anche l'amministrazione si è trovata nel tempo ad affrontare dei passi che non avevano dei precedenti. quindi per la normativa italiana anche una roulotte, un caravan nel momento in cui viene abitato, allacciata alla corrente e allacciata all'acqua diventa un comune immobile. Quindi se io abito una roulotte e non c'è stata una pratica edilizia, non c'è stata una regolarizzazione da quel punto di vista, è un abuso di vizio in tutto e per tutto. quindi diciamo che questo vicino, attraverso i suoi ricorsi nel 2014, ottiene dal TAR un'espressione a favore del suo ricorso contro il comune e il comune è costretto a domanare un'ordinanza di ricordissimo dei luoghi, quindi l'equivalente di una loggombra o demolizione insomma. E' l'anno in cui il comune di Sant'Arcangelo è commissariato, commissariato perché ha un anno in mezzo dalle elezioni in minoranza sulla protezione del bilancio e quindi si attiva un tavolo di lavoro con il commissario e i tecnici comunali, una serie di tecnici che si mettono a disposizione della comunità VTOI, un architetto, un geologo, un paesaggista, un geometra, un avvocato, tutte le persone che mettono la loro expertise a disposizione della comunità per affrontare i temi che sono oggetto di quell'ordinata e per provare a facciare una strada differente. La popolazione Sant'Arcangeloese è coinvoltissima da questo evento e quindi sostiene, diciamo, ad unanimità la presenza dei MUTOID a Sant'Arcangelo e attivano una raccolta di firme, si attiva una raccolta di fondi per sostenere le spese regali anche per i ricorsi in cui sono coinvolti in MUTOID e si attiva il percorso della regolamentazione urbanistica con l'adozione e poi l'approvazione di un piano operativo comunale che è il posto di cui si parlava anche prima. C'è nel frattempo un'espressione favorevole a quella presenza da parte della regione in termini di vincolo paesaggistico, cioè niente viene imputata la presenza in termini di occupazione del paesaggio, c'è anche la sovraintendenza, scrive un documento molto bello, poi sono cose che vi posso fare avere se volete mettere l'interdivisione, perché comunque l'arco MUTOID ha caratterizzato anche lo sviluppo culturale a livello sia regionale che nazionale ma anche internazionale negli ultimi 50 anni. Ci sono compagnie teatrali, anzima Raffaele Losantio, per dirne una, o i Motus, che hanno lavorato a stretto contatto con MUTOID e che hanno un po' sviluppato la loro step, la loro poetica, sui temi trattati da questa compagnia. Oggi c'è un altro ricorso pendente, in questo caso contro il piano operativo comunale, in realtà il ricorso al TAR è stato perso dal vicino, ma è diventata una missione di vita. e infatti sono preoccupata sia che lo perda anche l'ultimo grado, sia che lo vinca, anche se ti dico, cioè si estingue la sua ragione di vita a quel punto. Nel frattempo è nato, magari qualcuno di voi l'ha visto o l'ha presentato, un festival del primo maggio, che non abbiamo fatto negli ultimi due anni, negli ultimi due anni è saltato a causa Covid, ma aveva richiamato 15-20 mila persone in un giorno erano davvero tanti. Il festival è stato realizzato in collaborazione con Ampi, la associazione nazionale partigiale italiana, la festa dei lavoratori con spettacoli, animazione, musica, DJ set, diciamo 12 ore di festa. Le collaborazioni con il comune sono sempre aperte. Diciamo che Newtonia ha un buon grado di sostenibilità, se non ci sono interventi a sostegno da parte dell'amministrazione. Quindi tutti i progetti che vengono realizzati sono progetti altissimantali. Lo spazio è incomodato gratuito. Lo spazio è incomodato gratuito. Non hanno affitto già. C'è il rimborso dell'affitto che paga il comune alla Regione Mila Romagna, ma è una cifra in risoria che si attesta sui 3.500 euro. Quindi le utenze sono a carico degli abitanti. Le utenze sono a carico degli abitanti, però diciamo che c'è una forma di scambio. C'è un presidio su una parte di territorio, una galleria a cielo aperto. Il pop definisce il parco artistico Newtonia, che è visitabile 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno a disposizione del pubblico e in cambio c'è questo spazio. Io ti faccio una domanda. Qualcuna domanda da fare su questo tema? Molto grande, poco si adatta agli spazi che sono in stima qua, ma l'intervento era rivolto a come si manifestano dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e le situazioni che vanno in gestione dello spazio. La generazione di esternalità positive per il territorio è sicuramente l'ingrediente indispensabile per attivare e mantenere in vita un dialogo con l'amministrazione ma anche con il territorio. Adesso tu sei una partita del tema partecipazione del Mondiale Delega, hai lavorato in contesti difficili. Difficili è una parola che può spaziare tantissimo a Bologna in contesti difficili. ci sono già anche la semplicità di otteria, abbiamo visto che quando c'è tipo di Evero non è un contesto difficile, però sicuramente in tutti i casi come la partecipazione può far morire un dialogo proprio in questi contesti dove si manifesta poca espressività civica. Allora, devo dire che secondo me un eccesso di benessere non stimola la partecipazione. quindi forse nei contesti difficili o nei contesti dove c'è una buona numerosità si riesce ad attivare meglio la partecipazione perché c'è la cosiddetta volontà di sortirne assieme. Aspetto che secondo me si perde quando si sta troppo bene. quando stiamo molto bene e le nostre famiglie hanno un livello di benessere molto alto forse siamo portati a vivere ognuno di noi nella sua bolla e non cerchiamo di interagire assieme. quando ci sono delle cose che vogliamo cambiare e sentiamo di aver bisogno di cambiarle assieme agli altri allora lì si genera la partecipazione. il contesto difficile in cui ho lavorato io è quello della salute mentale con l'Accademia della Follia nata a Trieste dal lavoro di Basaglia e lì c'era una volontà di sortirne assieme di mescolanza e di risolvere dei problemi e delle questioni. nel mio territorio ad esempio è complessa la partecipazione perché anche su... io ho provato a reclutare inizialmente delle esperienze che sono più tipiche delle grandi città quella di esempio dei doti sociali. abbiamo fatto un bel percorso partecipativo che aveva avuto un buon numero di partecipanti e molto interesse abbiamo creato un regolamento che mette a disposizione dei cittadini le aree verdi con la possibilità di adottarle, adottarle chiaramente non permanentemente ma con delle adottioni di 5 anni, 10 anni per utilizzarle anche per orti sociali o per attività di vario tipo ma ad esempio quello non ha funzionato come avrebbe potuto funzionare a Bologna perché uno dice ma tu cosa mi dai in cambio comune? cioè io vengo a metterti, ti tengo a posto lo spazio, ma te lo tengo a posto? cioè io ci faccio l'orti, però tu prima non ci porti l'acqua, me lo recinti, me lo ari, mi crei la casetta per gli atletti, cioè siamo un po' più abituati alle cose che funzionano già invece dove ci sono magari anche tipi di residenti diverse perché è un punto, è un territorio dove la maggior parte delle abitazioni hanno un giardino ci sono poche palattine, allora lì si funziona in un modo quando invece si sta magari in centro a Bologna allora è più facile attivarsi per gli altri sociali ecco io ho notato questa differenza qui oppure quando ci sono degli ambienti degradati è più facile che una popolazione per una certa fascia di popolazione che alcuni soggetti si attivino per rinettere mano a quegli ambienti degradati questo è stato anche quello che dovete chiedere ma di Notonia per residenti sono fisse e per l'inizio sono caravan adesso sono fisse? adesso ci sono ancora dei caravan, ci sono ancora dei caravan e c'è qualche container non è... anche il container volendo uno chiama il braccio e lo sposta in 5 minuti cioè spacca l'alto no io sono compagna di uno di 5 minuti non certo quindi... non saprei ricostruire non credo che sia il mio compagno perché mi hanno potuto scolarmi i rati ma... un po' giudato tutta la macchina al capolone c'è una scultura di mutoni in una rotonda si chiama stop trappi che è una grande gorilla che ha l'idea di fermare il traffico delle auto che è stata installata diversi anni fa con Stratter, Lavorini, Cattolira, Marte c'era una stessa collaborazione ancora prima del pari Sant'Atranto con il cittadino sociale di Bologna, io l'ho conosciuto a livello 57 Stratter ha fatto delle opere che ha portato in espondizione anche nei nostri spazi in autogestione una grande scultura che si muove spesso è un aereo fatto a cocco e grillo con dei pezzi di scuberti e non che ordine anche scosti negli aeroporti quindi insomma un valore è quello artistico che può essere innescato nella gioventù adesso qua siamo anche forse già la terza generazione c'è già dei modi c'è già la terza generazione però nella parte dei giovani di cui noi stiamo cercando la visione di questi progetti c'è una spazionale fisica culturale che è stato dimostrato di un buon valore per la pubblica amministrazione lì c'è ancora molta capacità di attrarre i ragazzi nuovi noi abbiamo allora c'è molto interesse da parte di cui fa l'università quindi diciamo che una docina di tesi all'anno vengono fatte sul campionatore dal punto di vista psicologico, pedagogico, costume e moda, arte ma anche economia o giurisprudenza vi ho portato una pubblicazione della Regione Mila Romagna dove c'è un estratto di una tesi di dottorato sul campo mutuo e dei comuni e il paesaggio, ve lo lascio grazie e poi si lavora molto con anche le cooperative che fanno laboratori centristivi aiutocompiti insomma che lavorano durante il periodo scolastico durante il pomeriggio oppure nell'estate per centristivi una decina vengono in visita e sono tutte cose rispetto a quali c'è una disponibilità appunto basta si decona se si vuole organizzare la visita se sia piacere di avere qualcuno con cui fare quattro piacchere oppure si viene il liberamento c'è un video io non so quanto tempo 9 minuti mi sembra quanto tempo è rimasto non lo so Andrea Giotti si è collegato adesso si è arrivato però dai vediamo quindi facciamo questi 10 minuti che arriviamo alle 11 Questo è un video che ho fatto un amico dove racconta attraverso una similitudine tra il campo a quel luogo e il fiume Marecchia, dove ci sono un po' di foto del passato per far vedere come si è trasformato e come c'è stato un processo di rinaturalizzazione facilitato. Perché comunque abbiamo fatto anche degli interventi di sistemare la forestazione un po' troppo, perché se venisse oggi sembrerebbe di essere nel deserto dell'Arizona. L'hanno tolto da YouTube, finisce l'opera su... ho trovato solo un link su Facebook. Vediamo se va. Grazie. 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 onere del comune, qui non mi esprimo, l'onere del comune. Se avete voglia di fare una vita, io ho venito alla mattina alle 6, oppure meglio aspettare che piove un po' nel settembre, perché diventa molto bello, si ringerisce. No, 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 sì, 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 chiaramente durante la pandemia come parco artistico si è scelto di chiudere, anche perché gli atelier sono comunque sempre a pelle aperti, quindi se fossero in tanti estranei uno fa fatica anche a saldare con la mascherina, a fare la costruzione, a dover osservare, e a casa sua insomma, avrete bisogno di lavorare veramente. E poi anche i visitatori avrebbero dovuto consultare le norme, anche i bisogni. La comunità oggi bisogna non avere raggiunto? Allora, il POC fissa un limite di 30 abitanti, quindi quel limite non può essere superato. Chiaramente fissa un limite per una questione anche di dotazioni e di infrastrutture, quindi l'appognatura per intendersi. Ci sono aggiunte da poco due famiglie nuove italiane, una è un gruppo, è una famiglia che ha un progetto di cinema solare, si spostano con, hanno un camion, un camion attrappato con i pannelli solari, uno schermo per proiettare, quindi dopo ci stanno lavorando molto in Italia, saranno anche a Sant'Accangelo durante il festival e dopo, ma nascono con bambini nel deserto, quindi nascono lavorando in affiche portando il cinema nei pillaggi. L'altra famiglia è una famiglia di artisti, si chiamano due piccoli. Come è organizzata la comunità? Per esempio come si fa ad entrare nella comunità? Allora, con un'affinità rispetto allo stile di vita e una progettualità, un po' come difficilmente si sposa dopo un giorno di conoscenza, anche lì nascono delle collaborazioni, nascono rapporti di amicizia e di fiducia reciproca e quindi si accoglie un nucleo nuovo. C'è una sorta di direttivo? No, ci sono assemblee abbastanza anarchiche e ci è rimasto un po' questo spirito. Metonia non nasce dal mondo associativo, quindi non c'è questo tipo di organizzazione o abitudine, però si fanno delle assemblee con una certa frequenza e si prendono le decisioni o a volte si va in stallo e non si decide. Quanto risposta parliamo poi a questa parte? Sì, quello si sposta molto. Decide nel senso che si fanno delle performance al campo, quindi si porterà delle presenti. ci sono un po' gli affezionati anche del passato e quindi venendo al festival vengono al campo anche se non succede nulla. Per i periodi più frequentati sono da Natale a Giugno, secondo me alcune fine settimana ci passano anche una settantina di persone, quindi parecchio, ecco. in quel mondo anche mentre fanno un lavoro, un lavoro, un lavoro, un lavoro, un lavoro. No, anche perché fare l'animatore della propria casa diventa difficile, nel senso che hai un lavoro, torni a casa, oppure sei lì, stai lavorando, ti fanno le domande, qualche volta hai voglia di rispondere, qualche volta hai voglia di continuare a fare un lavoro. la tua struttura o il tuo lavoro. La maggior parte delle persone capiscono che si trovano in un villaggio, quindi rispettano in maniera molto discreta. gli spazi, altri non dico che ti ritrovi in cucina, ma quasi, perché sono curioso di vedere e non aspettano di chiedere. attraverso in un villaggio, quello che c'è l'ar время, meglio nel pubblico Infatti, sì un giardino è un libel, anche con i suoi di Famiglietti si invadono un giardino dell'immagine. rispetto a quello spazio è che non si deve spingere troppo perché sono davvero si diventa mirabilandia non può essere mirabilandia per quello spazio è bello ha una sua identità e una sua anima che è data anche dalla mobilità e se si spinge troppo si rischia di diventare un po il circo e non può essere questo quindi su questo a volte è necessario anche mettere dei paletti sulla funzione va bene ci ringraziamo allora qualcuno aveva qualcosa da chiedere a il punto più importante che secondo me è esso per il nostro percorso è proprio il fatto che lo spirito di mantenere i progetti e i luoghi aperti a tutta la cittadinanza fa sì che questo possa diventare essere quadrati tra i beni comuni come i nostri luoghi la portata e la squadra di vietano devono essere un bene comune per tutti i cittadini e non solo per l'associazione che lo prenderà in gestione quindi questo è stato in evento dall'intervento di famiglia dell'inversione adesso abbiamo andrea giotti che è tornato a bologna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.